Ma eccoci che si parla e si alleggerisce, ecco, oltre a me per chiacchierare con il prossimo ospite è venuto in studio, è rientrato in studio il nostro Flavio Grasselli e presentiamo Nico Di Rienzo Sensei Di Rienzo Ah, Di Rienzo Eccola là, eccola là, eccola là Che poi Nico Di Rienzo non dice nulla, magari diciamo Pablo e Pedro, forse qualcosa Ti prendi tutti Dopo l'errore avrei detto, signori Buongiorno a tutti, buongiorno Francesco, buongiorno Fabio Buongiorno Nico Buongiorno Allora, qui per parlare non solo di tutta la vostra attività sempre più, come dire, insistente Prolitica Allora, state al Teatro Greco Per la commedia Il Comicidio Comicidio Che cos'è il Comicidio? Comicidio perché praticamente funziona così Ci sono due detective che fanno parte di un'agenzia investigativa E la loro peculiarità è quella di indagare su casi un po' particolari Ovvero chi sta uccidendo il matrimonio, chi sta uccidendo la lingua italiana, chi sta uccidendo la politica E nella fattispecie al Teatro Greco loro indagano su chi sta uccidendo la comicità Ed ovviamente indagati sono appunto Pablo e Pedro Che hanno a disposizione l'ora e mezza, l'ora e quaranta di spettacolo Per dimostrare al pubblico, che in questo caso è anche giuria sovrana Che non sono loro che stanno uccidendo la comicità E quindi alla fine dello spettacolo il pubblico decreterà se questi detective possono Sono stati brevi No, no, se i detective possono liberare o meno Pablo e Pedro E quindi se devono andare a cercare altrove Quindi un pochino questo è il riassunto di quello che facciamo in scena al Teatro Greco Io ho tantissime curiosità, se vogliamo andare off Parlando un po' della vostra vita professionale Se puoi dircela, io ho parlato con un po' di comici romani Voi che avete esplorato anche l'area Zelig C'è questa polemica tra la comicità romana e la comicità milanese Ma soprattutto, io ascoltando alcuni comici romani poi non farò il nome Ma hanno detto che manca un po' a noi, a voi soprattutto Intesi come gruppo appunto di comici romani La stessa organizzazione che hanno loro sopra Perché noi come talento in teoria potenzialmente potremmo essere migliori Ma loro sono organizzati meglio Assolutamente d'accordo Perché secondo me, ma non è che lo dico io, lo dice la storia Perché comunque se tu prendi la storia della comicità degli ultimi 50 anni Ti faccio i nomi di Sordi, Troisi, Benigni, Toto, De Filippo Non vorrei, non me ne voglia qualcuno sembritimente Comunque tutti i grandi centro-sud Quindi a livello qualitativo secondo me Che è mancato? Un po' di spirito di collaborazione? Perché forse siamo tutti Sì, però ecco, purtroppo loro sono No, purtroppo, ben per loro Sono molto più organizzati Lavorano in altro modo E quindi poi riescono a portare a casa dei risultati Veri Zellig Che noi... Com'è l'atmosfera là? Cioè che... Ma non voglio fare polemica Assolutamente Però diciamo che... È un po' settaria Se mi passi il termine Perché comunque... Cioè che si intende? Beh, nel senso che... Ci sono tanti discorsi poi sotto Che magari forse non è il caso di affrontare in questa sede Però... Cioè, è strano che In una trasmissione di 10 puntate Dove girano 50-60 comici Ce ne stanno 5 romani Cioè io non credo che il comico romano Sia inferiore Ma a livello qualitativo e di numero soprattutto Rispetto a Verona, Bergamo, Milano, Bologna Siracusa, Palermo, Reggio Calabria, Bari Insomma, quindi... Però loro sono stati bravi a creare questo E probabilmente da un punto di vista Esatto, sì Dal punto di vista invece dell'espressività comica Cioè avete avuto... Perché io ti parlo sempre da telespettatori Per esempio io ho visto Brignano tante volte a teatro E l'ho visto a Zelig Fa molto ridere in tutta Italia Però a me per esempio fa ridere meno quando lo vedo a Zelig Cioè lo vedo molto limitato nei contenuti Ma sai cosa? Questa è una probabilità un po' di tutti Perché comunque tu se vai a vedere uno spettacolo a teatro Hai la tua ore e mezza Due, due ore e mezza Per esprimerti a 3,60 In televisione purtroppo oramai è tutto mordi e fuggi Quindi c'hai due minuti, tre minuti, cinque minuti Poi soprattutto per una coppia è ancora più difficile Però anche stessi testi Anche stessi testi visti a teatro Ma sai ma anche la condizione che tu hai In conto è che tu stai in un teatro insieme No, ma se tu stai in un teatro Dove tu vai predisposto Pagli un biglietto per cui ti metti tutto E sai che vai a vedere uno spettacolo comico Stai in mezzo a 500, 1000, 2000 persone che ti trascinano Un conto è che stai a casa, è 11 di sera, mezza addormentato È un po' diverso È anche la condizione mia quindi dici, del telespettatore Sì, no, del telespettatore in generale Ma anche l'artista forse Io infatti volevo andare su quello Su questa polemica Roma-Milano Il live sicuramente è down Sì, è un'altra cosa Forse si sentono a disagio Non si sentono a casa propria È possibile No, 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 non è questo Non è questo Ma, ripeto, un conto è che tu Cioè, il contatto con il pubblico Ma io parlo da chi sta sul palco È diverso rispetto alla scatola della televisione E quindi poi Anche il telespettatore stesso Ha una percezione diversa di quello che viene fatto Quindi, ecco perché tu dici Magari lo stesso testo che faccio in televisione Lo vedo a teatro Sul telespettatore C'è una Una riuscita diversa Perché c'è stata tutta una serie di componenti Che fanno sì che sia così, insomma Sì, voi avete conosciuto anche il Semi Show? Giusto? Eh, noi siamo nati con il Semi Show Eh, appunto Televisivamente parlando Quello in teoria doveva essere il nostro Zeric, giusto? Secondo me sì Infatti, prima lo stavo dicendo Ma mi è passato di mente Comunque, secondo me sì Perché qualitativamente Non aveva nulla a che Faridere oggi Esatto, esatto Esatto, esatto Quindi, sì Noi abbiamo cominciato con il Semi Show Che era 98-99 L'edizione che presentava Teo Mammucari E poi da lì insomma Sono passati tutti Perché Mamma mia che impressione Gabriele Cirilli Antonio Giuliani Gabriele Cirilli L'ho detto Max Giusti Lo stesso Mammucari Che presentava Teo che presentava Noi Ranelli Il modifica Nino Taranto Per cui tutta una serie di Gnometto Gnometto Ma poi anche l'edizione prima I fichi d'India Forrest Manera Manera Che faceva il Qual era Manera? Manera faceva il ventriloquo E quindi Che poi Gran parte di loro Sono passati anche a Zelig Quindi poi La qualità era quella Sì, sì, sì Purtroppo Ripeto Loro sono stati bravi A creare questa cosa E noi non ci siamo riusciti Il business Il business Ecco Come mai secondo te Non si riesce È un problema Che non ci sta Il collante Non c'è il Chi mette insieme Le persone Non c'è più Sì, anche se Secondo me È anche una questione Di mentalità Dei comici stessi Degli artisti stessi Perché loro Così come per esempio È riuscito a fare Molto bene Salemme a Napoli Loro Si fanno forte Del gruppo Mentre invece Purtroppo a Roma Ognuno pensa All'orticello suo E diventa più difficile Perché poi Te faccio un esempio Calcistico Tu ci fai 10 totti Ma se totti Gioca da solo È finita Non ha lo stesso risultato Che se gioca Insieme in altri Esatto E quindi Un po' il problema È questo nostro Qui a Roma Ho un bel regalino Ieri sera Eh beh Ma perché adesso No, no, no No, no No, no No, no Del Milan, eh Del Milan Berregalino ci sta Prendendo in giro A lavarlo No, berregalino Nel senso che Non vi sento sconvolti Sull'errore arbitrale Erano quattro calci di rigore In uno Credo Quattro calci di rigore Non solo La mela paga Con una caviglia Infortunata Quello che potenzialmente Era un altro fallo da rigore Nel primo tempo Insomma Che cosa vogliamo dire Una volta poi Ma comunque L'importante Sono i tre punti Sì infatti Ma è come stavolta Ma è come di essere Adesso vi registro Che alla prossima Vi metto L'importante Sono i tre punti Sì ma Il discorso è che Noi magari Su una stagione Ci può essere una Forse due No E che oltre alla capacità Dei L'incapacità Dei comici Dei fast sistema C'avete una memoria Che è molto Fiacca No 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 Io mi ricordo tutto Mi ricordo tutto Mannaggia Torniamo 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 allo spettacolo Torniamo allo spettacolo Ecco E fino al 15 No Noi siamo in scena Fino all'11 di dicembre E una cosa importante Volevo dire Che è una cosa Un po' inusuale Per un teatro Che noi riposiamo Il mercoledì Non il lunedì Qualmai Per prendere Quel bacino Di Parrucchieri E parrucchiere Quindi possono Venire A teatro Parrucchieri E parrucchiere Ma sono i lunedì Quindi Eh sì Noi riposiamo Il mercoledì E siamo in scena Tutti i giorni Alle 21 e 30 Mentre invece La domenica È pomeridiana Al 17 e 45 Un classico E un'altra curiosità Che ho È ispirazioni per i testi Da cosa Vita quotidiana Sì Vita quotidiana Satira di costume Satira sociale Parodie Però Non è che c'è Una legge Un copione Che Fassizio Ma che tu Scrivi un testo Ti viene un'idea Altra tutti i vostri Oppure avete anche Amici e collaboratori Per quanto riguarda Ci sono dei collaboratori Che comunque Ovviamente tutte le idee Sono ben accette Quindi si Assolutamente Assolutamente Anche se poi comunque Entrare nel meccanismo Di una coppia A livello autorale Parlo Sì Non è facile Perché poi ognuno Ha i suoi canoni Ha i suoi tempi E le sue dinamiche Quindi insomma Diventa Un po' più complicato Rispetto a scrivere Un testo Per Per un monologo Qual è l'aspetto Della realtà Che vi Sollecita di più Sì